Continuiamo ad avere arrivi di migranti molto importanti. Gli incrementi esponenziali proseguono. Nel 2023 si sta registrando almeno una triplicazione degli arrivi attraverso la rotta balcanica rispetto agli stessi mesi del 2022. Inoltre abbiamo mesi in cui raggiungiamo punte di quadruplicazione. Sono le parole del prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, a margine di un incontro di questa mattina, spiegando che al momento non è ancora stato individuato un luogo in cui attivare un hotspot in Friuli, Venezia e Giulia. Sul profilo della sicurezza, il prefetto ha poi precisato che non si registra un'incidenza diretta sulla sicurezza connessa agli arrivi, perché tendenzialmente l'andamento dei fatti criminosi si attesta comunque a una tendenza di decrescita. Per quanto riguarda i trasferimenti di migranti verso altri territori, il prefetto ha puntualizzato che non si sono mai arrestati. Dall'inizio dell'anno sono stati un migliaio. A oggi però i posti nell'accoglienza, circa 1.400, sono saturi e la stima di chi rimane escluso dal circuito non è mai oggettivamente possibile con certezza. Ma non escluderei, ha concluso Signoriello, che potremmo essere attorno alle 150-160 persone che chiedono accoglienza e a cui in questo momento non si riesce a dare risposta.